Uomini e donne, Esther Glam ha perso i due che stava aspettando, inutile dirvi quanto dolore stiamo provando. È una di quelle notizie che non vorremmo mai riportare, né tantomeno venirne a conoscenza. Purtroppo Esther Glam, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha perso i due gemellini che portava in grembo. L'annuncio devastante è stato dato direttamente dall'ex volto del dating show di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram. Soltanto fino a 24 ore fa la giovane donna rispondeva alle domande dei fan sui suoi gemellini. Ancora inconsapevole della terribile notizia che avrebbe ricevuto da lì a poco. Esther Glam, già mamma di Gabriele e Brando nati rispettivamente nel 2019 e 2021 dall'amore con lo chef Luca Baldacci. Aveva annunciato la terza gravidanza lo scorso 30 gennaio, pubblicando un rail in cui mostrava le immagini delle prime ecografie. Abbiamo conosciuto la giovane 26enne romana nel corso della stagione 2017-2018 di Uomini e Donne. L'influencer scese le scale per Paolo Crivellin. Successivamente però decise di abbandonare il programma quando si rese conto di non poter essere la sua scelta. L'ex tronista, infatti, aveva fatto più volte capire di preferire Angela Caloisi, con la quale ha poi lasciato il dating show. I due a oggi stanno ancora insieme. Grazie. 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 Grazie.